Quindi attenzione, ancora Bacci che spinge, la buona combinazione, il pallone messo in mezzo, arriva poi dalle retrovie con un tocco vincente, Tombesi che sigla il gol del 5-3, l'ottavo minuto di gioco di questo secondo tempo, 5-3 il risultato. Il pallone indietro ancora per Troccoli, a limite dell'area, la finta di Tombesi entra in area con il sinistro e questa volta non basta la respinta del numero 1 avversario, segna il gol del 6-4 con un sinistro a distanza ravvicinata, il numero 11, 6-4 il risultato. In questo secondo tempo Placido sulla sinistra, Tombesi il tiro di prima intenzione, poi il gol, non ci arriva corso, la deviazione decisiva sul tiro del numero 11, si riaccende nuovamente la partita, 6-5. Tiro, la sfera rimane lì, che occasione anche per Paresce. Poi la sfera indietro, attenzione, il tiro provvidenziale, con plena la rimonta quando sono 25 minuti sul cronometro, dal 6-3 al 6-7, grande sinistro di Tombesi al termine di un'azione insistita, capovolge il risultato incredibilmente, la bacia immobiliare, 6-7.